Ciao, sono tornata. Questi mesi sono stata assente per un motivo particolare, perché aspetto una bambina e a ottobre nascerà, per cui diciamo che sono sempre più o meno stata bene, però ho avuto il bisogno di staccare un attimo dal mio hobby, non perché non ho mai pensato cosa creare piuttosto che cosa fare, ma avevo proprio bisogno di staccare, perché la creatività era un attimo, come si può dire, andata via da me. Per cui insomma sono rimasta veramente indietro, ho acquistato comunque tanto, perché comunque anche se non creavo mi sono sempre tenuta aggiornata, adesso sto facendo qualche lavoro, ho fatto qualche acquisto, insomma questo qua è un video veramente veloce per dirvi che presto pubblicherò nuovi video, tutorial e niente, anche perché avrò più tempo a disposizione, visto che al 2 agosto finisco di lavorare, faccio le ferie, poi entrerò in maternità, per cui avrò fino a fine ottobre, che è la data presunta del parto, avrò molto tempo a disposizione, quindi diciamo che lo occuperò dedicandomi un po' al canale che ultimamente ho trascurato. Niente, quindi detto questo vi mando un bacione, a presto e niente. Ah, colgo l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti che anche in questo periodo si sono aggiunti, anche se appunto non ho combinato in un tubo. Quindi vabbè dai, adesso vi mando un bacio veramente, vi auguro buona continuazione. Ciao!